187 Pino Mara, sesta classificata, quinta la 122 di Chiara Sala, quarta 107 Lizza Novella terza, buon aiuto Stefania, seconda dall'Ungheria, la numero 67, scusate, Svobrono Portala, seconda classificata Allora, la concorrente dall'Ungheria è stata premiata prima, si mette al centro, la prima classificata allora lowsupp Maintenant, la prima classificata come from Spain. grazie signore grazie potete accomodarmi la prima passificata di non per il mondo grazie direzione campiona